eccomi come spesso mi capita detto fatto nasce l'esigenza di un piccolissimo audio che per certi versi meno impegnativo di una diretta video e per altri versi ha ancora più incisività e due minuti e track arrivo di catapulto allora questa giornata molto particolare piena di sfide per tanti sfide molto profonde saturno appena ritornato in moto diretto saturno che il maestro e ci sta finalmente sfidando dopo aver essere andato dentro a come dire a portare fuori all'esterno i diamanti sgrezzati che abbiamo trovato anche a costo di sofferenza disagi disallineamenti e contrattempi ma mi viene molto chiaro oggi che c'è bisogno di un grande equilibrio poi ne parleremo il 99 il 9 settembre quando nascerà la luna nuova in vergine nuova lunazione di quanto comunque questa luna ci chieda la presenza è anche la certosinità in un certo senso non so se esiste questo termine ma mi sa che rende bene l'idea allora mi viene chiaro che questo è una giornata in cui abbiamo bisogno di sperimentare un equilibrio un equilibrio paradossale quello che può sembrare uno simolo che esprime molto bene in un libro che io amo molto che si chiama adesso della mia amica chiara gamberale dove dice che l'amore e questo può valere per tutto perché poi l'esistenza è amore e non è una frase fatta richiede amore poi bisognerebbe capire che cos'è magari ma parlarne per giusto per intenderci magari lo faremo una volta dove chiara dice che l'amore è un equilibrio tra l'attenzione massima e il chi se ne frega e se ci pensate qualsiasi storia tra l'altro chiede proprio questa cosa sempre soprattutto all'inizio ma sempre è un apparente inconciliabile equilibrio tra la non preoccupazione tra il vuoto tra il non preoccuparsi cioè occuparsi prima e nello stesso tempo la massima attenzione un'altra metafora che vi può aiutare per chi ha i gatti in casa i gatti in casa sono un è l'emblema di questa faccenda apparentemente indolenti apparentemente menefreghisti apparentemente acidiosi e poi qualcosa che stimola la loro attenzione tra ci ricordiamo che non dei filini e che sono per certi versi delle belve no ecco esattamente questo quello che ci viene richiesto esattamente quello che dovremmo in realtà dovremmo una brutta parola ok che avremmo bisogno di sviluppare questo questo apparentemente inconciliabile dualismo che appunto viene chiamato ossimoro una notte luminosa eccetera no e tra la capacità di lasciare andare lasciarsi andare di non aspettarsi niente di non preoccuparci di non occuparne prima il futuro con la nostra mente con la nostra anticipazione e l'attenzione massima alla presenza ve lo dico anche perché stamattina poi non ve le racconto perché ovviamente sono cose personali e che coinvolgono anche altre persone io ne ho avuto il proprio una prova tangibile l'universo me l'ha proprio fatta vedere questa cosa in una maniera chiarissima due volte nel quale si è trattato di stare nella maestria di questi due opposti solo apparentemente inconciliabili la presenza e la rilassatezza tempo stesso l'attenzione massima e il chi se ne frega direbbe chiara ecco volevo passarvi questo e mi rendo conto che la mente la nostra mente è talmente abituata a quello che è un po' il sistema binario no alternativo o o quindi come è possibile che io me ne freghi nel momento in cui ho la massima attenzione o viceversa fa veramente una fatica boia anzi gna fa come direbbero a roma non ce la fa proprio a fare questa cosa e quindi lasciamola come dire spremersi le meningi lasciamo se lasciamola sbattere la testa contro il muro dicendo ma che sta di questo ma cosa sta dicendo non è possibile ma perché ma perché non è roba sua non sta a lei non sta alla nostra mente che pure una cosa bellissima dignitosissima non sono assolutamente d'accordo sul fatto che la mente sia infima c'è una mente infima e c'è una mente non infima per niente anzi non è roba sua che non capisca che si che cerchi di risolvere il rompicapo ma lasciamola fare tipo i bambini col oppure noi stessi io col cubo di rubic non ci capisco niente lo ammetto ecco lasciamoli in occupazione un attimo e invece proviamo a stare in presenza a stare nelle cose che ci sono e non interferendo e questo apparente dualità questo simoro tra il chi se ne frega la massima attenzione è qualcosa dello spirito ed è qualcosa non della mente ma del cuore e quindi lì che c'è la chiave non è veramente razionale lì vi assicuro che è possibile farlo e lì è possibile sperimentarlo ecco quindi poco fa ho scritto tra l'altro in incredibile sincronicità poi ho visto con alcune persone tra quelle mio amico luca carli nessuna preoccupazione nessuna aspettativa nessun sforzo che non è l'antitesi dell'attenzione l'attenzione qualcosa di vibrante ma questo qualcosa di vibrante c'è possibile anche sperimentarlo nella rilassatezza si può fare assolutamente assolutamente e quindi e quindi stiamo in questo simoro stiamo nello simoro va lanciamo questa nuova affermazione siamo simoro quindi stiamo in equilibrio tra la massima attenzione il chi se ne frega e ciao a tutti anzi a tutti barra tutte